Musica Proseguono a Premariacco le ricerche dei tre giovani dispersi da ieri pomeriggio nel fiume Natisone. I vigili del fuoco sono impegnati con sommozzatori, soccorritori fluviali, elicottero, imbarcazioni e squadre a terra. Due turisti sono stati salvati ieri nella spiaggia di Jesolo. I due si erano avventurati tra le onde nonostante la bandiera rossa esposta. Sono oltre 200 i laureati e gli studenti e più di 1700 i colloqui al job breakfast dell'Ateneo in piazza Udine. A San Vito sono stati selezionati i vincitori della prima selezione del Ribolla Gialla Wine Festival. Domani alle 9 e mezza si terrà la pedalata naturalistica per l'ambiente. Ben ritrovati gentili telespettatori a Telepordenone, apriamo subito il nostro telegiornale con la questione di Premariacco. Sono ancora in corso le operazioni per la ricerca dei tre ragazzi scomparsi ieri nella piena del fiume Natisone. Vediamo. Doveva essere un momento di svago per scaricare le tensioni dopo un esame e scattare qualche foto assieme. Ma quella tranquilla giornata di ritrovo tra amici si è trasformata in una tragedia premariacco, dove tre giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e un loro caro amico di 25 anni, sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone. La comunità di Udine e Campoformido, insieme alle famiglie delle vittime, segue con apprensione le operazioni di ricerca. Tuttavia, la giornata per i tre ragazzi, che volevano rilassarsi e godere della tranquillità tipica della natura, tipica cioè di Premariacco Beach, così chiamato quel paradiso naturale, si è trasformata in un incubo quando una repentina piena del Natisone ha sorpreso il gruppo, costringendolo a lottare contro una corrente improvvisamente violenta e pericolosa. Sono continuate per tutta la notte a Premariacco, nella provincia di Udine, le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei tre ragazzi. Stanotte sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra dal personale del Corpo Nazionale esperto in soccorsi fluviali. Al momento, il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo Nazionale conta 40 operatori, tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l'elicottero del reparto volo di Venezia. E' stata istituita anche un'unità di comando locale sul posto per il coordinamento dell'intervento. Comandante Basile, a che punto sono le ricerche? Dunque, abbiamo da poco ritrovato il cellulare che avevamo individuato questa notte tramite un drone, un sistema che ha creato un aggancio di una cella del cellulare, all'interno della borsa della ragazza che è la proprietaria di questo cellulare. Quindi siamo riusciti a trovarlo in un punto particolarmente impervio, non con poca difficoltà, perché comunque è difficile l'aggiungimento di questo punto e non visibile dall'alto. Adesso ci stiamo concentrando soprattutto a Valle del Ponte Romano, che è questo dove siamo adesso, con squadre sia in superficie che in, diciamo, sott'acqua, quindi con soccorritori fluviali, acquatici e sommozzatori e piano piano mapperemo tutta la zona da qui a Valle. Contemporaneamente abbiamo effettuato ulteriori sopralluoghi aerei con elicotteri e droni e adesso ci stiamo concentrando con alcuni volontari per verificare negli argini o nei ponti se c'è la possibilità di un controllo visivo, perché nel frattempo il livello dei fiumi potrebbe abbassarsi, il fiume, e quindi magari potrebbero emergere ulteriori dettagli. Insieme al comandante Alessandro Ciliberti, come è la situazione qua sul Natisone? Le ricerche continuano in maniera interrotta con tutte le componenti in campo messe dai carabinieri, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, impiegando tutte le tecnologie disponibili per cercare di trovare questi poveri tre ragazzi. E quali sono le aree che hanno perillustrato i compagni dei vigili del fuoco e della protezione civile? L'area è molto ampia, si parte dal luogo in cui è avvenuto l'evento fino a poi discendere secondo quello che è il senso della corrente. È molto pericolosa questa zona, ci sono stati altri casi simili? Impervia è pericolosa, in passato ci sono stati casi di annegamenti con corpi ritrovati anche a distanza in molto tempo. La vicenda di Patrizia Bianca e del loro amico sta tenendo con il fiato sospeso non solo la comunità locale, ma anche quella internazionale, dimostrando ancora una volta come la forza della natura possa trasformare in tragedia una giornata di spensieratezza. Sentiamo anche però chi erano i tre ragazzi scomparsi, sentiamo tutto nel prossimo servizio. Chi sono i tre giovani scomparsi a Premariaco? Ecco i loro profili. Patrizia Cormos ha 20 anni e vive a Campoformido. Originaria di Colleferro in provincia di Roma, si è trasferita qui in Friuli per frequentare l'Accademia di Belle Arti di Tiepolo di Udine, di cui è studentessa. La ragazza, peraltro, aveva appena completato un test chiave per il suo futuro accademico nel campo del design e dell'architettura ad interni. La seconda ragazza scomparsa, invece, è Bianca Doros, di origini romene. Bianca, di 23 anni, era appena tornata dalla Romania per fare visita ai genitori residenti a Udine. L'amico delle due giovani, infine, Casian Molnar, è un 25enne residente in Austria, ma con il domicilio in Italia, in Friuli. I tre, all'insegna della spensieratezza e senza pensare minimamente al peggio, avevano deciso di trascorrere del tempo all'aria aperta, scattando delle foto e godendo della compagnia reciproca. La scelta della località ricade su quello che tutti chiamano Premariaco Beach, nonché un angolo di natura sotto il ponte romano. Un abbraccio straziante è l'ultimo ricordo che si ha dei tre, un abbraccio sconsolato e sconsolatorio prima della piena. All'arrivo di quest'ultima, i vigili del fuoco avevano diretto verso di loro, che si trovavano al centro del fiume, una gru con degli strumenti ai quali aggrapparsi. Non c'è stato scampo, però, alla violenza della corrente, che si è portata via i tre giovani, strappandoli da quell'abbraccio struggente e di cui tutti hanno l'ultimo ricordo. C'è stato invece un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nel cantiere dell'ex Dormish a Udine. Intorno alle 13.30, un uomo di circa 50 anni è caduto all'altezza di 2 metri procurandosi diversi traumi. La dinamica è ancora in corso di chiarimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine per i rilievi del caso. Allertati dalla centrale Sores, nel cantiere situato in viaggio Battabassi a Udine, che una volta ospitava l'ex pirrificio della Dormish e che diventerà la sede di un istituto di alta specializzazione dell'ITS Malignani, sono stati inviati anche due mezze di soccorso. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'abulanza in codice giallo. C'è stato un doppio investimento a Gorizia dove una moto ha travolto due anziani. È successo intorno alle 13 di questo pomeriggio in Corso Italia. È intervenuto il 118 con un'ambulanza e l'elissoccorso regionale, che è rientrato però senza trasportare i pazienti. I due sono stati infatti presi in carico dall'ambulanza che li ha portati in codice giallo all'ospedale di Gorizia. Sul posto la polizia locale del capoluogo Isontino per i rilievi. Proseguiamo. Una donna di 66 anni si è accasciata a terra per strada all'improvviso e senza nessuna visaglia. È successo in via Mazzini a Trieste intorno alle ore 12.45 di oggi. La signora, dopo aver perso conoscenza, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che transitavano a bordo di un'ambulanza per soccorrere un'altra persona in codice giallo. Si sono così fermati ad assistere la donna e dopo aver valutato che si trattava di un grave malore, l'hanno stabilizzata sul posto e poi portata all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Sono stati salvati in mare due turisti nella spiaggia di Iesolo ieri. Questi si erano avventurati tra le onde nonostante la bandiera rossa. Vediamo. Nonostante le condizioni meteomarine ieri rappresentassero un possibile pericolo per la balneazione, segnalata con la bandiera rossa issata sui pennoni della torretta, alcuni turisti non hanno desistito dall'iniziare la giornata con una nuotata. A poco sono servite le segnalazioni dei bagnini quando verso tarda mattinata un gruppetto di una quindicina di persone provenienti probabilmente dall'est ha deciso di entrare in acqua nei pressi di una torretta 24 in corrispondenza delle piazze Milano e Turino. Ad un certo punto due di loro sono stati visti in grave difficoltà e pertanto sono intervenuti immediatamente gli addetti al salvataggio di Iesolo Turismo. A seguito dell'allarme si era portato sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto. Portati fuori dall'acqua, uno dei soccorsi si è rialzato autonomamente mentre per l'altro sono state necessarie le pratiche di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del 118. L'uomo, che avrebbe poco più di una cinquantina d'anni, è stato portato al pronto soccorso di via Levantina per accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Testimone del fatto, il presidente dell'AIA e vicepresidente di Iesolo Turismo Pierfrancesco Contarini, che ha sottolineato l'importanza di rispettare le prescrizioni assunte per l'incolumità dei bagnanti. Oltre a congraturarmi con il personale di salvataggio, invito i turisti a prestare attenzione alle segnalazioni visive e sonore messe in atto per la loro sicurezza. Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di Iesolo Turismo, Eleonora Baldo. I servizi sono alla base dell'offerta turistica della nostra città e quello di salvataggio rappresenta una delle priorità. Come Iesolo Turismo lavoriamo costantemente per questo e quanto è avvenuto ieri pomeriggio ne è stata una dimostrazione. Grazie ai nostri addetti al salvataggio, ma anche a chi li forma e li coordina. Vertice G7 tornano i controlli anche ai confini con l'Austria. Dal 5 al 18 giugno, in occasione dell'incontro tra i capi di Stato in Puglia, i controlli saranno estesi anche all'aeroporto e al mare. Vediamo. In occasione del vertice tra i capi di Stato del G7 in Puglia, ci sarà un aumento dei livelli di sicurezza in tutto il territorio nazionale. Si tratta cioè di una temporanea sospensione del Trattato di Schengen alle frontiere per due settimane. L'avviso lanciato dal Viminale dice infatti che le frontiere interne e terrestri, marittime ed aeree saranno oggetto di controllo in quanto si tratta di un evento di notevole portata, che necessita di un certo grado di sicurezza. Comunque si ritornerà al ripristino degli originali controlli dalle 14 del 5 giugno alle 14 del 18 giugno. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dove i controlli sono già attivi per la frontiera italo-slovena in quanto il rischio per terrorismo ha implicato una precedente attivazione dei controlli, che rimarranno in vigore fino a dicembre di quest'anno, per questa occasione i controlli saranno ripristinati anche alla frontiera italo-austriaca, nonché a Tarvisio. Coinvolti anche i porti di Trieste e Monfalcone e l'aeroporto di Trieste di Ronchi dei Legionari. Si prevede un rafforzamento dei controlli con il coinvolgimento e la sinergia tra le forze di polizia. Non si tratta però di controlli a tappeto in continuità, bensì di controlli a campione. Non saranno esonerati da tali operazioni i viaggiatori dei paesi dell'area Schengen. Tutto è già stato concordato con la polizia di frontiera, afferma l'amministratore delegato dell'aeroporto Marco Consalvo. I controlli saranno capillari su tutte le persone, sia in arrivo che in partenza. La questione vale anche per i porti. La polizia di frontiera informa che tutti i diportisti devono possedere documenti validi e moduli per l'espatrio, nonché l'obbligo di sottoporsi ai controlli richiesti. E ora, gentili telespettatori, una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra poco. Ben ritornati, gentili telespettatori a Tele Pordenone, andiamo avanti con le nostre notizie. Il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solimene, saluta e ringrazia per la preziosa collaborazione il sostituto commissario Laura Massaccesi, che oggi termina il suo servizio nella polizia di Stato. Laura Massaccesi, arruolatasi nel 1987, ha precedentemente frequentato il primo concorso riservato alle donne. Dopo sei mesi di corso alla scuola allievi agenti di Genova, è stata assegnata la squadra mobile della Questura di Venezia, dove ha svolto indagini per omicidio e ha lavorato al contrasto della criminalità organizzata. Nel 1996, al termine del corso da vice ispettore, è stata assegnata la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Dopo essere invece stata assegnata nel 99 alla Questura di Pordenone, dal 2000 ad oggi lavora all'ufficio minori della divisione anticrimine, dove collabora con plurimienti come consultori e servizi sociali e neuropsichiatria infantile. Massaccesi in questi anni si occupa di numerosi casi di maltrattamenti di minori e di collocamento degli stessi presso comunità, svolgendo in concomitanza indagini per le adozioni ed occupandosi del collocamento di minori stranieri non accompagnati. Sono oltre 210 i laureati e gli studenti e più di 1700 i colloqui al Job Breakfast dell'Ateneo. In Piazza Libertà Udine si è svolta oggi la nona edizione del Career Day informale. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Sono stati più di 1700 i colloqui sostenuti da circa 210 laureati e studenti di tutti i corsi di studio dell'Università di Udine che hanno partecipato oggi alla nona edizione di Job Breakfast, la fiera del lavoro all'aperto dell'Ateneo, un evento unico a livello nazionale che facilita l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, cercando di mettere a loro agio i giovani candidati con i metodi e approcci informali. Le 35 aziende di primaria importanza nazionale e internazionale presenti hanno proposto circa 460 opportunità professionali in tutti i settori. Il Career Day dell'Ateneo si è svolto come di consueto nella suggestiva cornice di Piazza Libertà Udine. Dopo il tradizionale capuccino e cornetto insieme ai rappresentanti delle aziende e degli enti presenti, si sono svolte le presentazioni aziendali. Una ad una le 35 realtà si sono alternate sul palco, realizzato per l'occasione sotto la loggia del Lionello. In 100 secondi hanno descritto cos'erano pronte a proporre in termini occupazionali. A seguire si sono svolti sotto la loggia di San Giovanni i colloqui. Molti hanno consegnato il curriculum e chiesto informazioni sulle competenze più richieste. Le aziende presenti appartengono a svariati settori, tra i quali aeronautico, aereo spaziale, assicurativo, biomedicale, consulenza aziendale, creditizio, edile, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico, navale, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi. Ieri sera al maggio pasianese invece di Pasiano di Pordenone c'è stata la premiazione della 25esima mostra dei vini. Martedì scorso c'è stata la selezione dei vini con diversi tecnici che si sono cimentati nell'assaggio delle diverse degustazioni decretando le vincitrici. In totale si tratta di 105 vini prodotti da 36 cantine della provincia di Pordenone o fuori, ma comunque il vitigno deve essere all'interno della provincia. Vediamo il video delle premiazioni e come si è svolta la serata. Ieri sera al maggio pasianese, giunto ormai alla sua 46esima edizione, si è tenuta la premiazione della 25esima mostra dei vini, una rassegna provinciale nata proprio nel comune di Pasiano di Pordenone. Ideate dall'estito ormai appunto 25 anni fa, la prima mostra ha visto la partecipazione non solo delle aziende vinicole comunali e locali, bensì anche quelle provinciali. La cerimonia di premiazione, cominciata con una cena a cui hanno partecipato tutti i partecipanti al concorso viticolo, ha visto concorrere ben 105 vini prodotti da 36 cantine, le quali possono trovarsi sia all'interno che al di fuori della provincia di Pordenone. Ciò che si rivela categoricamente necessario per poter partecipare al concorso è che il vitigno deve trovarsi all'interno della provincia e non al di fuori. Ecco i vincitori della mostra. Per i vini rossi al primo posto c'è Borgo delle Oche con un Re Fosco, al secondo posto Del Rizzo con un altro Re Fosco e al terzo Rive Col de Fer con un Merlot. Ai vini bianchi si sono classificati al primo posto gli eredi di Bessic Luciano con il vino Sauvignon, al secondo Belcorvo con un Friulano e al terzo Borgo delle Rose con un Chardonnay. I vini da dessert hanno visto il loro primo classificato in Bulfon con luce Lut. Il secondo classificato invece è Podere Gelisi con un Moscato giallo e il terzo è Marson Igor con un Vertuzzo. Infine ci sono i vini spumatizzanti. Per loro al primo posto e a pari merito ci sono i Principi di Porcia con un Prosecco Rosé extra dry e San Simone con un Blanc de Blanc metodo classico. Al secondo posto c'è Moschetta con uno spumante extra dry e al terzo infine Cantina Rauscedo con un Ribolla gialla extra dry. A San Vito sono stati selezionati i vincitori della prima selezione del Ribolla gialla Wine Festival. De Ganuti, Pittaro, Cormons e Stella sono i nomi dei vincitori. All'inaugurazione sono intervenuti Andrea Bruscia, assessore alla vitalità del comune di San Vito al Tagliamento, Stefano Trinco, presidente DOC Friuli Venezia Giulia, Sergio Schinelli, rappresentanza di Assoenology FVG, Benanzo Francescutti, ambasciatore Città del Vino Friuli Venezia Giulia, Bruno Pittaro, vicepresidente Unidoc Friuli Venezia Giulia e le conclusioni sono state affidate al sindaco di San Vito Alberto Bernava. Domani domenica 2 giugno al Ribolla gialla Wine Festival alle 9.30 si terrà la pedalata naturalistica per l'ambiente che abbiamo in comune, organizzata dal GSD Fabria. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al Parco Falcon Vial. Vediamo. Questa mattina nell'antico teatro sociale a Rigoni di San Vito al Tagliamento si è tenuta l'inaugurazione ufficiale della seconda edizione del Ribolla gialla Wine Festival, manifestazione che esalta la cultura enogastronomica del territorio attraverso il vino, simbolo eclatante del Friuli Venezia Giulia. E proprio durante la cerimonia sono state svelate le migliori ribolle gialle della regione, grazie alla prima selezione ufficiale del festival con la premiazione di 4 cantine per ognuna delle categorie in gara. La selezione, curata dalla sommelier Maria Teresa Gasparet, ha visto la partecipazione di 26 cantine regionali che hanno partecipato a questa edizione d'esordio con 54 vini ed è stata realizzata dal comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Unidoc Friuli Venezia Giulia e Assoenologi Friuli Venezia Giulia. È molto importante valorizzare proprio qui la Ribolla gialla, ha dichiarato l'assessore comunale Andrea Bruscia, perché innanzitutto San Vito al Tagliamento è il comune con la maggior superficie evitata della nostra regione e poi perché la Ribolla gialla, come vino simbolo del territorio, attrae a sé energie produttive, commerciali e culturali. La selezione è un ulteriore passo in avanti del nostro progetto di valorizzazione. Andrea Bruscia, assessore alla vitalità del comune di San Vito al Tagliamento, è partito il Ribolla gialla Wine Festival, seconda edizione, ci prepariamo per un sabato sera ma soprattutto una domenica da vivere. Assolutamente sì, finalmente il sole è arrivato a San Vito, è previsto sole anche per domani, domenica, quindi siamo veramente molto felici che Ribolla gialla Wine Festival sia partito molto bene, ci sono i mercatini, le casette, le cantine con ristoranti a cielo aperto che ci aspettano. Questa sera un grande spettacolo, la Notte Gialla, il Centro Storico di San Vito al Tagliamento sarà cosparso di eventi culturali, in particolare in piazza con le casette ci sarà un concerto, Why Not? con delle canzoni senza tempo, da battisti alle canzoni dei giorni nostri. Io sono qui in questo momento in piazza Castello, qui ci sarà un grande spettacolo dedicato ai giovani, Indy Power con la Calcutta Night che parte dalle nove e mezza fino alle dieci e mezza e poi fino a mezzanotte e mezza la musica indie con tutti i giovani qui a festeggiare insieme alle cantine, insieme all'enogastronomia di qualità. Poi domani chiuderemo alla grande, abbiamo Maurizio De Giovanni, il popolare scrittore, che alle ore 16 sarà in piazza del popolo all'aperto con Pordenone Legge a parlare del suo ultimo libro, ma poi tantissime attività culturali per le famiglie, per tutti, la musica e soprattutto cibo e enogastronomia e vino ribolla gialla di grandissima qualità. Quanto è importante la ribolla per il territorio e soprattutto valorizzare un vino così tipico? È molto importante, qui a San Vito al Tagliamento abbiamo la superficie evitata più ampia di tutta la regione come comune e chiaramente la ribolla gialla è il prodotto simbolo della regione, attrae a sé tantissime energie produttive, commerciali e culturali, quindi abbiamo voluto mettere insieme queste tre cose per valorizzare tutte le energie e le realtà che abbiamo nel nostro territorio qui a San Vito al Tagliamento. Il nuovo presidente della Proloco Buri di Butrio è Federico Toffoletti che a soli 29 anni ha ricevuto il testimone dallo storico presidente Emilio Bardus. Insieme a lui è stato eletto il nuovo direttivo subito operativo per la fiera regionale dei vini di Butrio che dal 7 al 9 giugno vivrà la sua novantunesima edizione. Toffoletti che era membro anche del consiglio uscente è insegnante, si è avvicinato alla Proloco del suo paese svolgendo il servizio civile nazionale nel 2017, passando poi nel consiglio direttivo l'anno successivo e rimanendo quindi nella Proloco Buri come volontario. Grazie a Bardus che comunque rimane al nostro fianco come tesoriere, ha dichiarato Toffoletti, per tutti questi anni in cui ha operato con passione per il bene della nostra Proloco, come anche a tutti i consiglieri del direttivo uscente, riceviamo da loro una realtà solida e riconosciuta nelle sue proposte di qualità che coinvolgono tutta la comunità. Grazie anche ai nuovi consiglieri che hanno dato la loro disponibilità a mettersi in gioco. Proseguiremo su questo solco di attività che ereditiamo, portando al contempo anche nuove idee e guardando al futuro con entusiasmo, sempre per promuovere Butrio come luogo di accoglienza e valorizzando la sua specificità territoriale. Oltre a lui come presidente, il nuovo direttivo vede Nadia Danelon come vicepresidente, mentre Emilio Bardus rimane quale tesoriere. Dal direttivo precedente sono rimasti come consiglieri Patrizia Borghese, Alberto Tavagnacco e Octavian Tauresk, a cui si sono aggiunti Ezio Paesani, Maurizio Mattiuzza e Carlotta Stefania Delbianco. Rimaniamo a Butrio dove sono stati annunciati i vincitori della seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa intitolata Di Viti in Vita, Poesie e Vin, in Tacquei di Buri, concorso inserito nella 91esima edizione della Fiera Regionale dei Vini di Butrio, dove la premiazione avverrà domenica 9 giugno alle 11 nella villa di Toppo Florio a Butrio. Il premio, curato da Maurizio Mattiuzza, noto poeta e romanziere di Butrio, ha visto la partecipazione di oltre 200 opere, tra poesie e racconti brevi, provenienti da tutta Italia e dalle comunità linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia. Opere dedicate all'arte del produrre vino di pregio, della coltivazione della vite e all'amore per la terra e per il paesaggio. Per quanto riguarda la sezione delle poesie, questi premiati. Il primo in classifica è Aldo Rossi con la poesia di Werther Ham. Il secondo premio va a Remis Tonon con la poesia Pedatich. E infine il terzo premio è andato a Vincenzo Screti per la lirica intitolata Quei fiaschi di vecchio vino rossiccio. I vincitori dei racconti brevi invece sono Giulia Sandrin, la quale si aggiudica il primo premio con frammenti. Il secondo va Caterina Vianello con il racconto 3650 e il terzo è di Daniela Ribon per l'opera dal titolo Tabina. Alla sezione ragazzi si classificano Elia Trentin, vincitore del primo premio, con la poesia intitolata Friuli. Durante la premiazione le opere vincitrici saranno lette dall'attrice Carlotta Delbianco. Una scelta unanime, ha commentato Maurizio Mattiuzza riguardo al vincitore assoluto della sezione poesia, che conferma la bontà della scelta di non riservare alla lingua friulana, slovena e delle altre comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia una sezione ad hoc, ma di giudicare le poesie partecipanti tutte insieme. Crediamo infatti che la letteratura debba provare oggi a far più che mai tesoro del molteplice, tenendo in considerazione il valore universale della poesia e del racconto. Il premio di Viti in vita, ha aggiunto il presidente della Proloco Buri, Federico Toffoletti, rappresenta un valore aggiunto nella proposta culturale della fiera regionale dei vini di Butrio. Siamo convinti che la letteratura possa essere un potente strumento per celebrare la bellezza del territorio vitivinicolo, raccontando le storie delle persone che vi abitano e il legame profondo che unisce l'uomo alla terra. Terminiamo il nostro telegiornale con una notizia sull'agricoltura del Veneto. È ormai pregiudicata la stagione del mais, si teme per l'orticoltura. Le incessanti piogge degli ultimi mesi, a 20 giorni dall'inizio dell'estate, hanno mandato all'aria un'intera produzione. L'allarme viene dalla CIA Venezia, che ha raccolto in questi giorni le segnalazioni di molti produttori. La nostra provincia, conferma la presidente provinciale Federica Senno, è la seconda in Veneto per produzione di mais. Secondo gli ultimi dati di Veneto Agricoltura, la superficie investita sfiori 29 mila ettari, con una raccolta media di 187 mila tonnellate, per un valore di 69 milioni di euro. Si comprende quanto sia fondamentale per l'agricoltura veneziana questa coltivazione. E c'è un aggravante. L'instabilità climatica, frutto di trasformazioni che ormai appaiono irreversibili, aveva provocato l'anno scorso una bassa produzione per il motivo esattamente opposto. La coltura era stata fortemente penalizzata dalle alte temperature e dai lunghi periodi siccitosi, con scarsità di precipitazioni che avevano causato stress idrici alle colture e numerose problematiche dal punto di vista fitosanitario. Alcune grosse aziende venete stanno valutando di chiedere alla regione Veneto la proclamazione dello stato di calamità. È un'eventualità che non scartiamo, anche se per il momento siamo preoccupati anche per le altre produzioni stagionali. L'orticoltura è in forte sofferenza, non tanto per i danni provocati dalle piogge o dal forte vento, ma proprio sul ritardo della maturazione. Il fenomeno è particolarmente pesante per le coltivazioni a cielo aperto come le zucchine, ma anche quelle protette soffrono a causa di temperature non adeguate, conclude Senno. Ora gentili telespettatori, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito anche questa sera. Vi lascio con le previsioni del tempo. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi giornata alle insegne della variabilità, in particolare in pianura. Siamo partiti col bel tempo poi con il cielo nuvoloso in mattinata, poi di nuovo cielo quasi sereno del pomeriggio, le temperature massime che sono rimaste sotto i 23 gradi in pianura. In montagna invece cielo più chiuso, quindi tra il variabile e il nuvoloso. Rimaniamo in una situazione ancora di instabilità per la presenza di un po' di aria fredda in quota. La depressione responsabile delle piogge di venerdì si è già allontanata verso est, ma già un'altra piccola depressione arriva dalla Francia e passerà vicino alla nostra regione tra domenica sera e lunedì. Domani dunque ancora cielo variabile sulla nostra regione, in particolare dalla pianura alla montagna, più soleggiato invece con cielo poco nuvoloso sulla costa, a tempo che sarà più soleggiato comunque in generale di mattina, mentre nel pomeriggio saranno probabili dei rovesci sparsi e qualche temporale. Venti di brezza sulla costa e temperature massime in pianura fino a 25, forse 26 gradi sulla costa attorno ai 22-23. Lunedì è ancora a tempo all'insigna dell'instabilità, con cielo che rimarrà prevalentemente variabile, con dei probabili rovesci sparsi, delle piogge che saranno in genere deboli o localmente moderate, ma saranno probabili anche dei temporali, non escluso anche forse qualche temporale un po' più forte, con delle piogge un po' più intense. Temperature massime lunedì attorno ai 24 gradi in pianura, attorno ai 22 sulla costa. È tutto, buona domenica! Grazie a tutti!